Perché proprio a me? Mio marito era un chirurgo molto quotato. Personaggi della televisione e noti giornalisti si facevano operare da lui. Ed io, mio marito e mio figlio, grandi viaggi, grandi case, una vita d'oro. Fino a quando un ictus l'ha devastato, ha ridotto mio marito a un bambino. Lui è sempre stato ateo, ma da quando si è ammalato vuole andare in chiesa. Ieri alla messa ha tirato fuori un pacchetto di santini per distribuirli ad ogni costo ai bambini che stavano con i genitori. Io come una furia gli ho detto, Alfonso smettila, ti prego smettila, se no esco dalla chiesa e ti lascio qui. Lui mi ha guardato assente, si è avvicinato a un bambino e gli ha dato un santino. Perché proprio a me è toccata questa disgrazia? Commento Perché devi imparare ad amare cominciando da tuo marito. Imparare ad amare è la cosa più difficile per chi è incarnato nella condizione umana. Ci vogliono decine di incarnazioni per avere l'intuito del trasporto d'amore. Per te adesso l'unico modo per imparare ad amare è quello di assistere tuo marito. Per te adesso l'unico modo per imparare ad amare è quello di assistere tuo marito. Per te adesso,